Capitana Luciano Voto, termine della sfida con l'Almas Roma, una vittoria importante 2-1, un po' di sofferenza nel finale, anche se nel primo tempo siete stati bravi a sfruttare le occasioni arrivate, poi sul raddoppio avete tenuto botto nel secondo. Intanto ti chiedo un commento a caldo. Sicuramente è stata una vittoria sofferta, ma meritata. Ci voleva per il molare perché comunque attraversiamo un periodo difficile, abbiamo parecchie assenze dovute da infortuni gravi, quindi per noi oggi era importante vincere su un campo non facile contro una squadra ben organizzata. Siamo stati bravi a sbloccare la partita al primo tempo con due gol e la sofferenza c'è perché comunque c'è in tutte le partite, l'importante per noi oggi era vincere troppo importante. Adesso siamo a quota 12 punti, a meno 5 dal Mundial, se non erro, per la zona play-off. Insomma una vittoria importante anche perché domenica c'è il Montemario, che è una squadra molto attrezzata. Cosa si preparerà in settimana? Sicuramente prepariamo la partita in base all'avversario. Il mister è molto attento negli schemi. Noi dobbiamo vincere per accorciare sempre di più la classifica perché comunque abbiamo dei punti che non rispecchiano il valore della rosa, secondo me. Poi alla fine del campionato tiriamo le somme. Allora in bocca al lupo e ancora complimenti per la vittoria quest'oggi. Allora in bocca al lupo e ancora complimenti per la vittoria quest'oggi.